Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La finale di Wimbledon ha visto il confronto tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. A trionfare è stato quest'ultimo, ma anche il primo può dirsi soddisfatto, non solo per le sue prestazioni in campo. Il tennista è riuscito ad incontrare Kate Middleton, verso la quale ha espresso bellissime parole. A consegnare il trofeo a Djokovic è stata proprio Kate Middleton. La presenza della principessa del Galles a Wimbledon, considerando la sua battaglia contro il cancro, non era scontata. Ed è proprio per questo che Novak si è voluto complimentare con lei. Il tennista serbo ha raccontato. È stato ovviamente un privilegio essere di nuovo in sua presenza. Le ho detto che è molto bello vederla in buona salute. Sembra che sia in buone condizioni. Djokovic è stato contento di vedere Kate a Wimbledon. L'ha trovata in buone condizioni e non può che essere contento. È stato felice però anche per un altro motivo. La principessa del Galles è una brava tennista e conosce tutte le regole della disciplina. Ha dichiarato, ovviamente è una notizia molto positiva per tutti in questo paese, ma anche per Wimbledon, per i championships, avere qui su altezza reale, ovviamente con i suoi familiari. È incredibile. È incredibile il supporto che hanno dato nel corso degli anni a questo torneo. So che lei e sua sorella giocano a tennis da molto tempo e quindi rispettano e ammirano davvero il gioco. Capiscono anche il tennis, perché è fantastico. È meraviglioso avere questo tipo di supporto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.